Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo finalmente riusciti con l'evento community a sbloccare i 100 star drop gratis su Brawl Stars. Quindi mi raccomando, vi chiedo di lasciare subito un bel pollicione in su, quindi un bel like, iscrivetevi al canale e campanellina attiva. Allora, per trovarli bisognerebbe andare direttamente nel negozio oggetti. Ed eccoli qua! Andiamo ad aprirli. Troveremo qualcosa di interessante? Probabilmente no, però lo scopriamo insieme. Allora, ovviamente raro. Ok, super raro, se andiamo in progressione, non mi dispiacerebbe. Poi, attenzione, rimane super raro. Tra l'altro io non so voi durante l'evento community, ma io credo di averne aperte tipo 50, che è sempre raro, qualche volta super raro. Esattamente come in questo momento. Allora. Vado molto a ruota finché non esce qualcosa di interessante, perché se ne devo aprire 100 orari, potrebbe anche succedere. che il gioco casualmente venga disinstallato, proprio molto casualmente. Tra l'altro, fatemi sapere voi se avete... Oh, attenzione! Abbiamo trovato uno mitico. Spero che non sia un gadget. Perché facendo la raccolta. Teniamo un po', attenzione. 500 monete. Andiamo avanti. Ehi, ehi, ehi. Sì, mi tessi come mitico devo trovare 500 monete. Comunque, stavo dicendo. Scrivetevi qui sotto nei commenti se avete trovato qualcosa di interessante voi. Allora. Dai, ma nemmeno un po'. Un altro mitico. Attenzione. Se sono altre 500 monete, potrebbe... 200 crediti. Ehi, ehi, ehi. Beh, almeno mi sto avvicinando per sbloccare il brawler con i crediti. Un altro mitico, vediamo. Ma perché? Ma credo che sia una delle serie più brutte che possano succedere su questo gioco quando riscatti i star drop. Se tre mitici ho trovato monete, crediti e i punti energia, come si chiamano. Vabbè. Di sicuro, al termine di questi 100 star drop, avrò molte monete sul gioco. Allora. Comunque, da notare che non mi è ancora capitato nemmeno un leggendario. Mitico, dai. Emote. Neanche un leggendario mi è capitato. Devo riaprire ancora più veloce, perché non mi esce un leggendario. Quando vuoi riuscirò a trovare un leggendario? La vedo molto complicata. Allora, al termine di questi 100 star drop avrò un sacco di... di punti energia e monete che è veramente... riuscissi a sbloccare almeno il brawler, quello che credo, non sarebbe male come cosa. E niente, altre 500 monete. Stai a vedere che non troverò neanche un brawler. da notare comunque che su 100 sarò tipo a 40 rari. Per il momento. Niente, qua l'unico è comprarsi il brawler con le gemmette che fai nel pass. che la raccolta e te ne compri uno ogni tipo 4 mesi. Mi sembra che sono tipo 169 gemmi i primi. E gli altri costanti di tutti i primi. Niente da fare. Potremmo trovare solo raro. Abbiamo questo... questo mitico. Eh! Attenzione! Siamo riusciti a trovare un brawler. Abbiamo trovato Otis. Se non sbaglio è anche abbastanza forte, se non sbaglio. Almeno uno. Potremmo anche di trovarsi un altro, non mi dispiacerebbe. Anche perché a me ne mancano veramente tanti i brawler. Sono tipo a metà. Perché si chiama tipo... Sembra che erano tipo 40 o qualcosa del genere. Adesso mi sembra che su Otis c'era scritto 9 su 23 di quelli mitici. Oh, comunque veramente 0 leggendari. Dai, dai, dai. Vediamo un po'. Niente da fare. 100 star drop, 80 saranno stati rari. Ok, super raro. Voglio proprio vedere quante uniti ho fatto alla fine di questo star drop. Sembra che ero a 8000 se non sbaglio. Perché stavo potenziando per fare un po' le classificate, perché a quanto pare ne devi potenziare un bel po'. Attenzione, è epico. Quindi mi sembra che finora al massimo sono stati 4 mitici, se non erro. 4 o 5 mitici. E qui solo un brawler. Non riuscivo a trovare nulla di eclatante. Ok. Ma è sempre raro. Ok. Adesso mi viene il dubbio che non possa uscire quello leggendario. Che nel mio caso, a quanto pare, non può uscire. Però magari ad alcuni è uscito. Niente, è sempre raro. Assurdo. Sicuro ci sarà qualcuno tra di voi che magari ha trovato 5 brawler. Magari anche di più. Attenzione, mitico. Ok. Attenzione! Un secondo brawler. Sembrava un ombrellino inizialmente quando girava, poi l'ho capito che era lui. Attenzione! Siamo a quota 2 brawler trovati. Entrambi mitici. Però a questo punto il leggendario non può trovarlo. E cavolo, vuoi dirmi che su 100 non poteva uscire né uno leggendario? Vabbè dai, almeno 2 brawler... Attenzione! L'abbiamo appena detto! 100-100. Uscirà qualcosa, tipo un gadget, qualcosa del genere. Guardate. E invece no! Attenzione! Si sta ribaltando la cosa. I campioni di foodbrawl. Ah, c'ho... C'ho la skin... Ok. Però mi sembra che non ce l'ho questo qua. Beryl. Ah no! Forse ce l'ho Beryl. Devo controllare, perché qua non mi esce che ho sbloccato un nuovo personaggio ma una nuova skin. Devo controllare. Ero comitato di non averlo Beryl, ma mi sa che ce l'ho. Allora niente. Ci stavamo esaltando per nulla. Comunque almeno uno leggendario abbiamo trovato, dai. Un drop leggendario alla vera ci sono. Se riuscissi a trovare ancora dei crediti per sblocare il brawler non sarebbe male come cosa. Così come se ne avessi, diciamo, sbloccati tre. Comunque carina la skin di Beryl, così. Ci sta. Lo useremo poi su foodbrawl, bont probabilmente. Vedi, sono a 3.000 e 2 su 3.008. Che lunga arrivare a arrivare a 3.008. Anche l'altro mitico. Vediamo un po'. E niente, sempre le monetine. Qui sto aprendo il loop senza sapere quanti non ho aperti. In genere mettevano in alto a destra il numero. Mentre così, boh, magari poi non so neanche 100. Non credo. Ma mi sa che ci stiamo avviando verso la conclusione di questi 100 star drop. Ma niente, l'avevo appena detto. Allora, abbiamo fatto più di 5.000 monete, probabilmente. C'è qualcos'altro gratuito da riscattare? Eccolo qui. Ma do ben 15 monete. Però andiamo solo a vedere se avevo già Beryl. Ah, sì, ce l'avevo già. In compenso, ho sbloccato Otis e Mortis. Quindi tutti con la scritta Tis alla fine del nome. Vabbè, però, due è meglio che niente. Vediamola così. E voi, chi avete trovato? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Mi raccomando, se ancora non lo avete fatto, vi chiedete un bel pollicello in su. Quindi un bel like, iscrivetevi al canale e campanella in attiva. Noi ci vediamo in un prossimo video. O in una prossima live. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti.